la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 13 maggio una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola lo facciamo partendo dal mattino di Napoli in primo piano la sentenza sul disastro della Concordia la Cassazione conferma i 16 anni di carcere al capitano Schettino Schettino in cella, pago per tutti l'ex comandante a Re Bibbia mi consegno perché credo nella giustizia disastro della Concordia la Cassazione conferma 16 anni di carcere i legali di corso a Strasburgo il retroscena l'ultima telefonata all'anziana mamma vieni io ti aspetto il marito di una vittima mia moglie sfuggì al cancro non al giglio per la politica legge elettorale prodi con Renzi il proporzionale non dà stabilità primo incontro dopo il gelo delle primarie scoppia il caso dei Deborah Serracchiani profughi e stupri critichi peggiori dello scivolone il caso Lorenzin vaccini e scuola il primo diritto spetta alla salute poi ancora l'evento Fatima i tre segnali del Papa Francesco proclama Santi i pastorelli mentre per quanto riguarda lo scafarto avvisai i PM che gli 007 non c'erano caso Woodcock le nuove rivelazioni rivelazioni dei carabinieri Eretizio Lorenzi intercettato dai magistrati di Napoli prima di essere indagato a Roma il retroscena Cantone intesa sui poteri ridotti ma con più fondi infine andiamo in taglio basso il virus degli hacker che ricatta l'Europa da Londra a Madrid attacco senza precedenti a ospedali e imprese Napoli-Roma l'ultima occasione d'oro giornata decisiva per il secondo posto della Serie A un posto che vale Champions e vale tra l'altro 30 milioni di euro Lasciamo la prima pagina del mattino e andiamo subito ad approfondire quella che è la sentenza della Cassazione sul disastro della Costa Concordia Schettino in cella dovrà scontare 16 anni la Cassazione conferma l'appello l'ex ufficiale si presenta a Re Bibbia le mosse successive degli avvocati l'avvocato difensore Laino dice pronti a rivolgerci alla Corte Europea speravamo in un verdetto senza vendetta la strategia nella capitale tra buona condotta e altri fattori potrebbe alla fine però restarci poco il terrore un legale racconto alcuni dei superstiti per lo shock hanno subito danni gravi infine il comitato peccato che a fine in cella sia solo il capitano anche altri lo meritavano l'ultima telefonata del capitano Schettino meta l'ultima telefonata dalla madre e all'amica Paola le elezioni il sindaco Tito rispetto le sentenze ma come amico sono amareggiato e merita rispetto anche le parole dell'ex comandante che dice pago per tutti ora andiamo avanti l'ex comandante credo nella giustizia per questo mi consegno le sue speranze si sono spente alle 19.55 condanna confermata mi dispiace sono state le parole che al telefono Francesco Schettino si è sentito ripetere dal suo avvocato Saverio Senese non si era fatto molte illusioni sapeva che il processo era disperato e che rischiava il carcere e anche l'avvocato Senese che lo assiste da due anni dalla vigilia del processo d'appello di Firenze glielo aveva fatto capire solo 4 ore era rimasta in camera di consiglio la quarta sezione penale della Cassazione presieduta da Vincenzo Romis un altro napoletano questa è la situazione con Schettino che ieri sera si è consegnato come detto al carcere di Re Bibbia torniamo a leggere le nostre prime pagine andando sulle cronache del Salernitano in primo piano la guerra dei teatri vigili sotto accusa la compagnia luna rossa di Pino Donabella sfrattata dal comune per far posto a quella di la Monica del Mirino un verbale dei caschi bianchi un protocollo di consegna che non risulta al comando intanto la preside della scuola costa ha visto le polemiche di vuole indietro i locali a centro pagina leggiamo Schettino affonda in Cassazione 16 anni si è costituito a Re Bibbia naufragio della Concordia il comandante già in carcere poi ancora provincia verso il fallimento a rischio il posto dei dipendenti CGL stato di agitazione a rischio strade scuole e pressing dei parlamentari in commissione Castel San Giorgio le ultime trattative per Salvati e la Lanzara mentre quanto riguarda il caso di Angela Celentano una nuova delusione sfumata la pista in Messico celeste non esiste Sabri assolti l'ex sindaco D'Agostino e Pierino scagionati anche i volontari per lo sport tra Salernitana e Avellino ecco la nuova Lega del Sud Granata senza obiettivi Bollini mette le mani avanti agli Irpini basta un pareggio per mettersi al sicuro ingenti misure di sicurezza nel derby quest'oggi in programma allo Stadio Arecchi di Salerno lasciamo le pagine di Le Cronache per andare all'apertura della città di Salerno la città che apre con la sanità no al morbillo si alza la diga dell'Asl la base vaccinale del Salernitano è del 93% ma si stanno individuando i residenti tra le complicanze le panencefalite sclerosante il caso Lorenzin e le polemiche poi l'attacco hacker mondiale c'è un virus che taglieggia computer bloccati e liberati dietro riscatto poi la Cassazione giusti 16 anni a Schettino il comandante da ieri sera in Cella poi di poi ancora la provincia sull'Astrico chiudiamo le scuole dipendenti in lotta avvocati in trincea soli e mal pagati oggi arriva il corteo a Roma strategie anticrisi l'Italia ora accelera sul fisco per il digitale contatori di traffico Padoan ha parlato al G7 di Bari in conclusione di inclusione sociale fondamentale per la crescita poi ancora Macron strategia franco-tedesca dannosa per l'Italia qui anche un focus sulla politica internazionale in taglio basso infine Antonietta la vela oltre il buio cieca da anni gareggerà il 16 tra Masuccio e Marina D'Arechi la campionessa e i suoi occhi del cuore la fotonotizia infine dedicata alla Salernitana nel derby conta solo vincere Gran Salernitana Avellino stadio blindato per il derby in programma oggi pomeriggio andiamo avanti con le prime pagine ci resta da leggere la pagina Salernitana del mattino si apre con la provincia in rosso la regione paga il governatore De Luca contro Roma scuole e strade copriremo le spese l'allarme del presidente Canfora dopo i nuovi tagli patto tra parlamentari fratelli d'Italia attacca iniziativa ridicola l'industria fonderie operai in bilico la CIG alla fine poi ancora università polo scientifico sei dipartimenti nella top del miur il capus supera le valutazioni ministeriali Tommasetti dice sfida linta noi non ci fermiamo per la cronaca l'offesa del prof all'alunno trans via quegli abiti non è carnevale in retroscena dopo la denuncia dell'agonia mediatica al quindicenne una docente apostrofo Umberto per l'abbigliamento femminile scatta l'indagine dei carabinieri il caso da Perugia a Scafati la mamma ragazzina in fuga con il figlio poi ancora rifiuti in campania a buonavità con altri due impianti il piano così avanza mentre l'intervista all'assessore Matera sul turismo gli imprenditori dice non hanno più alibi infine la pagina sportiva con la fotonotizia dedicata al derby salernitana salva ma il derby va onorato carica a Bollini chiudiamo in bellezza il commento di Nando Di Francesco la partita contro l'Avellino a questo punto diventa la gara della stagione questa era la prima pagina del mattino dedicata a Salerno e noi con questa prima pagina chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte dell'edizione di questa rassegna stampa di sabato 13 maggio una seconda parte che come sempre ci porta a leggere le pagine interne dei quotidiani oggi in edicola partiamo dalle cronache del Salernitano andiamo a leggere la pagina dedicata alla parte sud della provincia si parte da Agropoli un grande spazio in realtà calciatore amatoriale svenuto rianimato con un defibrillatore batte la testa nell'eseguire una parata curato all'ospedale San Luca si sono vissuti momenti di paura e tensione nell'incontro amatoriale di calcetto un uomo che svolgeva il portiere in una delle due squadre nell'esecuzione di un intervento di parata batteva violentemente il capo sul terreno e perdeva i sensi immediato il soccorso il numero uno della squadra veniva rianimato con l'aiuto di un defibrillatore intanto allertato il 118 che poi hanno portato l'uomo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ancora Agropoli condannati i fratelli Jacomino la gelosia per una donna armò la mano dei due fratelli originali del napoletano condannati a 10 anni e 4 mesi per Gaetano e 9 per il fratello Ciro avevano sparato ad un commerciante rivale Raffaele Carione a sacco invece un incidente mentre taglia un albero muore un boscaiolo di 52 anni incidente sul lavoro un boscaiolo di 52 anni Antonio Marino è deceduto mentre provvedeva al taglio di un albero di querce in una zona boschiva denominata Prati il colpo del poveretto è stato notato da una passante ieri mattina cioè a distanza di ore da quando era accaduta la disgrazia il passante notava la presenza di un mezzo agricolo appartenente alla vittima del tragico destino e più in là il corpo senza vita del 52enne Capaccio Pestum c'è ottimismo tra i medici per Danilo stamattina intanto l'ultimo saluto a Francesco il rito funebre nella chiesa dedicata a San Vito sono previsti per la giornata di oggi i funerali di Francesco Angorala il giovanissimo DJ originario di Capaccio Pestum sono malgrado rimasto vittima di un drammatico incidente statale avvenuto nella sala di mercoledì scorso a Capaccio Scalo nella centralistima via Magna Grecia oggi i funerali appunto siamo in debito anche con la pagina della sanità del mattino di Napoli allora lo andiamo a vedere si parla del nuovo commissario per la sanità campana un commissario che manca all'appello da oltre un mese dopo le dimissioni di Polimeni sanità presso il nuovo commissario l'annuncio della Lorenzini in visita a Napoli incontrerò De Luca ne discuteremo anche con Gentiloni e Padoan il pressing del ministro la regione deve uscire dall'emergenza il sub commissario Claudio Damario attende pazientemente all'esterno di Santa Maria la nova l'arrivo del ministro a Napoli da più di un mese precisamente da quando il commissario Giuseppe Polimeni era assegnato le dimissioni dall'incarico la sanità campana è nelle sue mani tecnico di area centrista la stessa Beatrice Lorenzin Damario sembra avere le carte in regola per sopravvivere alla rivoluzione che sta per scattare sul tavolo c'è il nodo della scelta del nuovo commissario sarà un esterno come in un primo momento aveva ipotizzato il ministro oppure toccherà De Luca prendere le redini del comparto Lorenzin non si sbilancia ma non esclude nulla ricordiamo intanto c'è l'appello le dimissioni di Polimeni da oltre mese fa il governatore non c'è più tempo da perdere sempre per quanto riguarda la sanità più in generale si parla dei malati di SLA arriva l'SOS dall'associazione servono più posti letto a Ruggi l'allarme dell'Aisla durante un convegno all'ospedale il nostro comio salernitano è un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti la priorità è formare meglio le famiglie e combattere contro le lungaggini burocratiche lasciamo la pagina della sanità per ritornare nel Vallo di Diano e andare a leggere un po' quella che è la pagina e gli argomenti scelti da per quanto riguarda la parte sud della provincia dalla città di Salerno e poi vedremo anche le altre notizie si parte dalla vicenda di Sacco cade dalla Quercia batte la testa muore un agricoltore giovedì il 52enne Antonio Marino era uscito dalla sua abitazione per recarsi al lavoro il corpo senza vita scoperto ieri da un passante inutili i soccorsi la salma affidata ai familiari a centro pagina centola servizi per il turismo corsi solari serali alchis per i lavoratori agguato alla coppietta condannati ragazzi 5 ragazzi di Pola sono stati ritenuti responsabili di un raid punitivo 4 ragazzi di Pola sono stati condannati a 3 anni e 3 mesi di declusione dal Tribunale di Lago Negro perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di rapine impropria lesioni danneggiamento e violenza privata un ragazzo di Sala Consiglia se l'è cavato invece con soltanto una condanna di 3 mesi fatti che hanno portato alla condanna dei 5 imputati risalgono al novembre del 2009 quando nella periferia di Sala Consiglina i 5 aggredirono una coppietta di fidanzatini che si era appartata in cerca di un po' di intimità ai carabinieri del nucleo operativo di radiomobile comandato dall'allora tenente Vincenzo e quelli della stazione Iori del luogo tenente Cimino riuscirono in poco tempo a raccogliere tutti gli elementi necessari per poter identificare i componenti del gruppo che hanno portato a termine una spedizione positiva dalle indagini emerse che l'aggressione era stata compiuta perché qualche giorno prima tra la coppia di fidanzati e qualcuno degli aggressori c'era stata un'accesa di discussione all'interno di un locale pubblico della zona andiamo avanti Sapri processo per gli asiliari tutti assolti anche Perino si è concluso davanti ai giudici del tribunale di Lago Negro il processo a carico dell'ex sindaco Vito D'Agostino e altri quattro imputati tutti appartenenti all'associazione guardia ambientale di Sapri i fatti riguardavano l'affidamento del servizio di ausiliari del traffico all'associazione preseduta da Elisa Chiacchio per il periodo giugno-agosto 2011 l'accusa era nata dopo un esposto che aveva ipotizzato un falso e un abuso d'ufficio nei decreti della loro sindaco D'Agostino e dal comandante dei vigili Pietro Curacaruso oltre che dei componenti dell'associazione il processo ha chiarito l'assoluta leicità degli atti assunti dall'amministrazione infine andiamo in taglio basso video promo sulla certosa di Padula Gaetano Rosciano protagonista al TG5 è diventato il protagonista di un servizio del TG5 di giovedì scorso il video promozionale della certosa di Padula realizzato dal giovane videomaker di Sala Consigna Gaetano Rosciano grazie alle riprese in alta definizione realizzate con un ausilio di droni di ultima generazione ha prodotto un video nell'ambito di un progetto di valorizzazione dei luoghi d'arte italiani portato avanti dalla start-up Tripler per la quale è ambasciatore per la campagna ed unico videomaker della provincia di Salerno questa era la cronaca ora lo sport partiamo dalla Salernitana e il giorno del derby regaliamo una gioia ai tifosi Salernitana senza più motivi per quanto riguarda il campione di Serie B ora cerca punti nel derby per regalare un sorriso ai propri supporters gli ultras spronano il gruppo nella rifinitura Bollini carica la Salernitana e s'affida al tridente e la ventunesima sfida ventiduesima sfida un anno fa ricordiamo fu il gambionetta show e l'attaccante brasiliano realizzò una doppietta nella gara inaugurale alla Rechi tre punti e chiudiamo il discorso Novellino non si accontenta l'asice terzino in avanti balottaggio Eusepi e Verdi il tecnico dell'Avellino cerca tre punti per archiviare la pratica salvezza e non portarsi così all'ultima giornata Granata niente scherzi vincere e programmare il doppio ex tosto il cavalluccio marino del cuore non nasconde il suo sostegno i playoff erano alla portata ora c'è da chiudere in bellezza e pensare al futuro la penultima giornata vede gli occhi dell'A.B. puntati sul vigorito di Benevento che prova a riaprire il discorso promozione col Frosinone c'è il rischio infatti che i playoff non vengano giocati in quanto andiamo a vedere in questo momento la differenza tra la terza classificata attualmente il Frosinone e il Perugia a quarto è di oltre nove punti e per quanto ci dice il regolamento della Serie B in tal caso i playoff non si giocano ultime due giornate al termine Salernitana che come detto gioca oggi contro l'Avellino prima della trasferta di Perugia della prossima settimana lasciamo la Salernitana per parlare rapidamente anche del Napoli che va alla caccia del secondo posto fuori i secondi questo è il titolo della pagina sportiva del mattino Napoli e Roma che brividi in gioco 30 milioni i timori sei volte nelle ultime sette anni le italiane eliminate dai playoff di agosto i diritti e il market pool legato al mercato televisivo a fare la differenza andiamo a leggere un po' di quelle che sono le opinioni la Champions Direct consente di pianificare acquisti e preparazione estiva un turno decisivo per Napoli e Roma visto che il Napoli giocherà domani a Torino contro il Torino mentre la Roma ospiterà la Juventus e quindi il Napoli sogna il sorpasso parlando di italiani all'estero c'è la grande vittoria di Antonio Conte che trionfa in Premier League con il suo Chelsea la vittoria 1-0 ieri sera contro il West Bronwich Albion firmata da Bashoi regala al tecnico italiano la Premier con due giornate di anticipo tornando al Napoli è l'ultima chiamata Champions Sardi si affida a Giorginio e a Lan a Torino gli unici dubbi che riguardano i centrocampisti in difesa torna Coulibaly dopo la squalifica per questa trasferta l'allenatore predica prudenza e attenzione è difficile organizzare la visita del tecnico alla lapide degli invincibili sul campo dell'Olimpico servono muscoli per fronteggiare i mediani Granata e quindi c'è l'avvantaggio di Allan su Zilischi infine l'ultima stoccata di De Laurenti Seguain per la Juventus non sei fondamentale ha vinto anche senza di lui che diteva Scarsi Callegon e gli altri bianconeri sono stati poco etici questa le parole di De Laurenti su Iguain ebbene noi con lo sport chiudiamo questa edizione della rassegna stampa vi ricordo che i news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web 1tvweb.it mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13.45 io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata per l'attenzione per l'attenzione di giornata